Attira enormi quanti dei nemici, attira orde e orde di nemici E' qui l'arco? Eccolo, si Ok Uh, vengono i battoncini, vengono Che cazzo è? Cos'era quella mucca? Io sento tipo il temporale da qualcuno Io sento le mucche di nuovo Io pure? Jacopo, ma tu cazzo tu stai? Non so delle mucche, sono i motorini Vagnoni, non so delle mucche E' un nicchia da questa cosa delle mucche Motorini? E' da Pavela si sta, vorrei dire Sti motorini fanno mooooooo Andiamo alla prossima caverna Andiamo 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 amici Comunque con le mucche dove si fa l'armatura di medica Ma qui non ci siamo già stati? Sì Allora, in quanto abbatte un albero da motosepe? E' un po' di questo al... Wow E' ruccio? E' comunque meno veloce del mio glitch Vabbè, quello è normale Però per una persona magari Non è tenuto il glitch Non ne ha conoscenza Diciamo che la svolta Oh 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 oh, c'è il tizio che corre Questa spiaggia Ermo che li arrestano per assembramento Anche dietro Cazzo Mi stanno sfindando Oggi stanno le cuote Ora le faccio vedere io E' più di merda Quanti cazzo sono? Ma che comunque Che... Che fight di merda che hanno... Bene Vieni, vieni Vieni cuci, vieni Ma cazzo sono venuti veramente Grazie Ma che viene Guarda che viene Ma cazzo sono in questo modo Mi piace La sua è avversata Ma è solo 2 st non ci muovi il 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Oh Ah Dove mi dare un morso il mio panino Sto lo sei rimeritato? Ma quella merda che ci ha fatto freddare suoi dove sta? Eh, indovina Oh Caccio sta caverna Vedete qua c'è una tartaruga? Per far avvegarne Anzi ci sono tartarughe Mamma mia che ninja Ha caricato un colpo del sole Ha caricato un colpo del sole Vabbè Vabbè Uaaaa E l'ha uccita, l'ha decapitata con un colpo Mamma Vabbè Ancora con la tartaruga ti stai fernando? No, una terza solo che era rientrato il collo Vabbò Ok Siamo in questa nuova caverna Guardate con i bengala che si può fare La luce? Nulla No, mi da la rotella per combinarmi i bengala Se è più in là si potrebbe trovare la pistola per i flare Ah, e dovrebbero di mettere la pistola La flare gun E quello è fondamentale Avere il boss finale a quanto giusto E' anche per una cosa Io faccio un attimo Una cosa volatissima Chi ha bastoncini? Io Che hai fatto? Finitemelo Salviamo, salviamo, sì sì E ci vediamo stasera Esattamente, bravo Hai capito molto tu A dopo ragazzi dai Oh ma dopo Merda, merda No Dai spegnete, andate Uscire No, facciamoci sta cadendo al massimo Perché andiamo dopo Ma Per quello che non stava tanto scherzando Ma non stava tanto scherzando Sto scherzando, questo Non è vero Ragazzi è grande Polipo Vividi, 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 è una mano Guarda che esplosivi per i ciccioni Il cavallo qua L'ho preso? L'ho preso, l'ho preso Ma è già chita morta Eh, vabbè, ma questo è tutto Ahia Ahia Ma bocca via a me Ehm 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 Morto, morto, morto Ehm Ehm Sono morto Un attimo Grandi, baby Un attimo Sto bevendo Un attimo, sto bevendo Un attimo, sto bevendo Ehm 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 Un attimo, sto bevendo Sì sì, fai ossa Fai ossa Fai ossa Fai ossa Fai ossa Cosa? Trofeo Ehm bello mio nooo no ragazzi lo voglio questo no lo so con un altro se non c'è una casa ok comunque tenete d'occhio la motocrossa che cazzo stai andando con quella grossa mettila in un battoncino si si dà un battoncino aspetta ma davvero non mi fa mettere i battoncini oh ragazzi si questa è la caverna che avevo trovato allora se ricordo bene questa caverna è molto grigosa perché ci sono varie zone in cui bisogna andare a te con i rampini con la corda qua allora Jacopo qui in questo punto metto il segnalino perché questo è importante perché questo è importante bevi arrivo arrivo lascia quello come segnalino zio lascia quello infatti non mettere quelli là se no ci confondiamo poi no lo vedi hai un colore unico capito no 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 non è bene quella ci sono 30 mila bandiera ok ci sono tante casse e dei ok ci sono tante casse io sto da questa presa mi sta bene doverla mi sta doverla capo si ragazzi sicuramente è possibile si aprono questi cosi a la Louis Vuitton qua di non farli combattare eh son stato in cella ma mi fotte sega ma lì si lega Dove volete andare? E' un po' di arampicata sportiva Stiamo accendendo quindi Ah e qui c'è una cosa ragazzetta La gamba ce l'abbiamo ragazzi C'è una foto E cos'è un cavallo cos'è? Si penso c'è un cavallo Una hotte Bravo il mio pavoncello bravo Posso chiamare pavoncello da oggi? Quindi il pavoncello ha deciso di smanere il gioco C'è pure un contapassi Contapassere Dove sta il contapassi? Sta tipo in bocca Comun contapassi una racchetta spezzata No non c'è il contapassi guarda bene Gli aspetti Ragazzi una racchetta Polipo 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 L'ho preso E' un moto Cacchi via La racchetta ti puoi prendere ragazzi Qua qua ti puoi prendere Che cazzo ci fai con la racchetta? Un'arma Che merda Oh me sta sfondata a me Allora la racchetta dove l'ha messa qua Vediamo Si può combinare con Con le piume per avere più velocità I denti per il danno Le bottiglie per il fuoco Vediamo subito Va denti più Linfa Ok Da cristo Ragazzi ma chi mi sta dando a me È il nemico Il nemico Suizio Lui montano E' vero Il ruolo Grazie leading merda Adesso se le voglio dare un po' di velocità, metterò le piumine, giusto? Più la linfa. Ah, non puoi, una volta che te la regoli non puoi... Ahhhh Non è, qua ci sono anche me. Però? No, puoi. O no? Piume e linfa. Eh, qui qui. Gisucristo. Questa non stava saltando, vediamo. No, non si può. Oh, codio, sta qua, non l'avevo vista, era buio, mi sono andata a un po' di qua in cima. No. Bottiglia. Sto molto fuori. Sì, vabbè, bevi, giusto, sta pensando ancora a quella cucina da là. Allora, vabbò. La sono fatta addentata, vediamo. Dove state? Vai, vai a vedere, vai. Ah, c'è il polipo. Non c'è il problema, ragazzi, non c'è il problema. Polipino. Cazzo. Tutto morto. Mamma mia, come l'ho smirciato questo. Proviamo la nostra racchietta. Dove è? Vieni qua, vieni. Polipo, di merda. Merda di polipo. L'ho ucciso. È morto. Mamma mia, che racchietta, signori. Sì. Eh, spacca sta racchietta dentata. Adesso? Avete bastoncini? Sì. No, vabbè, sennò fa niente. No. Non deve fare niente. Vorrei lasciare un po' di carne, però dovremmo tornare in base. Un altro passo a zero. Ok, questa parte grotta è finita. Alla grande. Baby, perché sei vestito da tenista? Eh, volevo vedere il compito nuovo, no? Oh, se mi fate finire di bere questa cosa... Jacopo è la cosa da profeta, non se la dovrei togliere mai, sappio. Vabbè. Devi finire il gioco da profeta, devi finire. E tu devi finire il gioco da skin di Jacopo. La stessa skin di Jacopo, c'ho? No, però sembri Jacopo, praticamente. Ah. Tolti gli occhiali, sì. Ok. Vai. Qua c'è un passeggero in acqua. L'abbiamo già visto, mi sa. Ok. Oh, vuole un'altra parte io, l'ho. Fammi la vedere, fammi la vedere. No, ma fatemi buttare un paio di flare. Non si vede un'ostia. Ah, sì, avevo lì. Bene. Ecco di Dio. Ah, si può scendere ancora? Sì. Ovviamente no, vabbè, è ancora questa cara là. Sì, dobbiamo andare alla parte. Cosa di Dio. Cosa di Dio. Ah. Così. Così. vabbè scendiamo dai ok da dove? è l'altra parte qua mi sa che si salta nel lap direttamente no 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 devi andare all'altra parte quale parte? dove stai? guarda che sta parte no? e perchè ci ha fatto scendere? eh non lo so questo è un microchiello ci sta no? ok il tubaio è un microchiello no 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 che è successo? è morto? no 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 non è morto ma dove cazzo stai? dove mi vuoi? è lì? oh io sono giù eh vieni 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 fai da fai da dove? no fai da fai da fai da cazzo ma va a fare in culo pezzo di merda buona schietta va in culo pezzo di merda sono fai da 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 per far quanto avva indipso a fai da fai da fai da fai? Mi vedo Mi vedo Mi vedete No Mi scegci Basta con i feti Basta con i feti l'acqua l'avete controllata qua? sì sì l'ho controllata io, non so niente qui ci sono le bastoncini da terra, vedete che se le possiamo servire e qua, disino questa colonna allora voglio vedere se con la freccia riesco a rompere la colonna, no, però con la mia racchetta dentata sì me ne hai mettete un'altra? ubaluba occhio qua, stavo per cadere io che cazzo è qua? sì la figa della Swenson è qua e c'è una cosa da prendere zio una foto, un altro punto per... aveva visto eh, tra l'altro e qui è vicino non si può battere si vogliono scegliere ragazzi, non si può battere no, non si può battere ok sta sotto c'è qui ci sono, stiamo sentendo cavalli qui c'è tipo l'igienizzante per mani cosa? ah no, le bombe, l'espiratore girizzante per mani sembrava un sapone digerizzante per mani la quarantena in testa calzato a voi la barbara d'ulze si è dedicato mamma, lei proprio no guarda, su tutte le persone... lei proprio no ma lei proprio no ma che stai dicendo? anche sei sceso, fede, fede, perché sei sceso già? guardi qua, ragazzi, qua, di qua, di qua c'è un'altra strada, senza scendere in acqua, andiamo pieno di tutto su quella terra non c'è un cazzo anzi, c'è, c'è qualcosa, aspetta adesso quanto scendiamo, ultima, in acqua non riesco a capire bombe, insomma, fede ah, ecco perché vabbè, niente allora, vabbè ho delle bombe d'ossido no, tutta la carne mi si è putrefatta a me ebbè, la possiamo mangiare comunque, basta vuoterla ma non ci dà qualche pazziava che è cagata no, ti fa stare leggermente male velocemente, ti soglia un po' di vita, ma un'antichia poco di vita di togna vabbè, volete mangiare voi? io sono fuori ma comunque facciamo un campfire tieni, ah abbiamo di freddo oh, intanto che ho mangiato mi vado a riempire la sigaretta al volo guarda, guarda, guarda quanto cosa ha messo Beppi a me piace mangiare bene è la zuppa di lì sta facendo vuoi che ti metto un po' di bacche, eh? Beppi eh, ti metti no ma hai perso tutto quanto, sappile avevo mangiato al volo non hai mangiato non era cotta ancora mi sono alleggerito l'inventario quantomeno oh c'è una cosa da prendere qua un'altra foto cave entrance a entrata ok, a entrata di una cava proprio diversa viste delle cose da fare e infatti è bravo, pure a me è cambiato ah, la caverna sommersa adesso finalmente ah, la caverna è la... oh, c'è gente c'è gente c'è gente? ok ehi, ciao Torellino arriva da dietro, dietro alla trasmissione guarda questo guarda quando corre oh, quando l'ho preso guarda l'ho preso in testa se li sta? si, l'ho vista di passare accanto a me ah beh, quello è normale io direi di fare una salvata allora eccomi eh ma non si può, ah si si può salvare visto che stiamo addentrando nell'end game eh infatti nell'end game? eh beh zio piano piano stiamo arrivando eh stiamo finendo le caverne stiamo finendo le caverne e ora ti dico quante ne abbiamo fatto dico su cave entrance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ne abbiamo fatta ne mancano 2 eh ma ci troviamo una o l'altra ragazzi perché le due caverne che ci mancano io ne ho segnate 9 di cui due non sono fatte però io invece vabbè quella umida a me non me l'ha segnata come fatta anche se l'abbiamo esplorata io ne ho 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 di cui delle quali tre non fatte ma diciamo due la quella della morte e il sinkhole della dolina la dolina sincola le contare cioè che cazzo è che cazzo è con la foto beh ti sei dimenticato pure il medicare senza un sacco di roba fa no 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 le ho presi io come i medicinali ah c'era un tizio che pregava lo come dire che li incazzi tanto mi faccio non lo scrivo ecco l'altro headshot quindi le frecce poi raccogli tra le regi poi lo racconto sempre quando ho fede di sei persone headshot prima bellissimo eh zio ho visto il cadavere però qui dovrebbe esserci altra gente eh intorno eh ripeti eccoli eccoli eccolo 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 come volano mi fanno ridere come volano dagno l'ho preso in pieno signori dagno dagno cazzo 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 vien da me cazzo il ragno con le minne aah jacopo esplosivi no? ma questo non è morto quello che ho bruciato in realtà è morto è inarrestabile ecco questo ci mancava cazzo sono morto pure io è nato una botta di feto con una di sto coglione cazzo di animando oh ma sto feto dove cazzo sta? scusa qua sta eccolo dove 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 mi sta dando mi sta dando un fastidio questa cacchità stramone è vivo ancora ah ecco perchè ho preso bevi ok fredo flambe c'è un sacco di strada non so dove vogliamo andare c'c'è un sacco di ma c'è un sacco di morto? morto 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 c'è una strada di qua una di là io devo recuperare tutte le frecce che ho speso perchè la merda è piccosa allora io direi prima di esplorare qua vieni la soda ragazzi è qua un sacco di entrate infatti quella mi sta guardando che lo vestiamo ragazzi questa è la comunicazione questa è la cosa che rende questa è la gialla cosa è la roba guardi 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 bezzare è una nuova pesca, ovviamente il pesce chludo te lo fa mangiare no comunque bellissimo, si è buggata la maschera adesso mi può fare la luce eh, pure a me ieri era comodissima, quella è la luce più forte mi sa braaaavo due nemici no io l'ho io l'ho io l'ho dato in live l'avete finito in acqua si va andiamo? eh beh dire di si via vabbè ma non si scende, si deve semplicemente attraversare ci sono dei fogli qua per la telecamera penso di si andiamo side effect, eccola qua c'è sborric su un letto che tipo c'è un attacco epilettico a lo fai tu? lo stai facendo tu? ehm c'è un cavallo dietro infatti si è disposto il cavallo la distruggerà solo no non penso si ho visto nel video che lo faceva mamma mia chi è laggata eh, e ora dobbiamo combattere contro il cavallo ok ok interrotto basta l'esplosione distruggono sto gioco uh, cavallo fermi 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 freccia tutti quanti grazie grazie per avermi colpito a me sei abbazzato io un pezzo di dinamite l'avrei buttato sei buggato dai che sei buggato ah non ho più freccia infuogata ma il freddo ma il freddo questo mi fanno ma qua sarò fuori con la dinamite che voglio l'armatura io è molto bene va molto per gli freddo ecco allora qua c'è una salita con il rampino un attimo facciamo un follow si andiamo a scaldarci allora io devo farmi un po' di crettore c'è un po' io ragazzi mettete un nooo la zuppa di piedi e tartarughe ma le frecce come faccio a potenziare con fa soltanto veleno o incendiario il veleno si fa con non con questo ah ok questa capa fa paura questa parte di tava bevi con il rampino no io sono seco sul cadavere io sono seco sul cadavere come questo gioco di merda non ha più seco di merda un uccionino oh cazzi ragazzi uno grande uno grande addio uno grande il cavallo eh il cavallo si oh porco mio ma il cazzo vale la mia ho preso si l'hai preso però non è morto oh siamo andati amore siamo morto ormai facciamolo facciamolo no senza esplosivi eh prendiamo l'armatura è morto è morto è morto con le bietole aspettate prima di entrare provo sicuro a che questo è il buco che dovevamo prima si è la figa della svensson solo la sua è il cavallo che si vedeva dal buco da dire niente assolutamente che compito ho messo che compito ho messo vediamo facci vedere giacca di pe... no bomber con jeans tipo ok non c'è nient'altro possiamo entrare nella porta? si 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 assolutamente aspetta lista di cose da fare aggiornata la arena della dolina... ragazzi la arena della dolina a me l'ha data completata uno due uno due no a me no a me non mi da un cazzo vai a prendere il completo vai a prendere perchè? no no non lo prende non lo prende non so mai ma vabbè il completo dovete lo fare ovviamente completare e no troppo te lo cambi eh poi te lo puro rimettere quello vecchio ok dove stava? è vicino al buco la due ma non credo proprio sia il completo ragazzi non so che ne sai tu prova ma conoscendo il suo gioco tutta tutto è possibile cosa stava completata... no... ragazzi abbiamo visita... no... stava completata... no... ragazzi abbiamo visita... Bella, bella baby Mi stavo attaccando e ho visto la freccia arrivare nel cranio Ok ora si è aggiornata anche a me A me si è aggiornata Si si è aggiornata anche a me Si si è aggiornata anche a voi Abba ormai l'ho fatta l'headshot Si me l'ha data anche a me adesso Scusa è aperta a metà la porta Che meno Occhio qua ragazzi qua è pieno Sicuro L'ha appena caricato Allora io direi di fare una cosa Aspettiamo simone perché questo è un punto di non ritorno Come un punto di non ritorno No Scusa il laboratorio Tu sei un bellissimo coglione Secondo me no un cazzo tu sai Perché io so No io non lo so Scusate una cosa ma il laboratorio non è stato le montagne Il laboratorio sta là Il laboratorio sta là Dove sto lanciando la freccia Oggi è il laboratorio sulle montagne Siamo sotto la montagna fra Dobbiamo scendere Ragazzi il fatto che stiamo sbloccando il laboratorio Non vuol dire che stiamo finendo il gioco No 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 Però comunque voglio salvare lo stesso Posso mettere un acqua eh Anche perché appena arriviamo al laboratorio Ci dobbiamo mettere il segnalino Perché noi non sappiamo più come cazzo andare Ehm chi ha il 14 bastoncini mò Ehm muo io vado a cercare in giù Eh di coglioni Vabbè scendiamo Scendi 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 No no non cadere Non cadere Non c'è l'acqua No acqua c'è infatti Qua c'è un teschio Cioè dall'alto Dall'alto si vedono macchi di sangue ragazzi Esattamente bravo Però sono sott'acqua capito Quindi è stato inutile scendere Vabbè ma non c'è nulla Non c'è nulla Qua c'era un teschio che c'ero io in basso Davvero non c'è nulla C'è qua Ma d'accordo che sto io C'è sta cosa Si capisci Ehm sono bagnato Lo so che sono bagnato Che devo fare E' vero non c'è una pica Per me sono riflessi Delle texture ragazzi La nostra sede di conoscenza è stata ingannata Ma l'arco in tutto questo Ah è già è vero Eh no sta nell'altra parte La siamo andati molto avanti noi Non siamo andati dall'arco subito All'ingresso stava l'arco Ce l'ha stata fatta apposta Ricordate che c'era quel passaggio sott'acqua Non l'abbiamo preso noi Ma sei sicuro che il laboratorio è qui A lui devi chiederlo Io non lo so Io non ho visto i video online Bevi Ehi Sei sicuro che il laboratorio è qui? C'è un'altra parte Il laboratorio è più avanti Qui ancora c'è la caverna Quella seria Quella grande Con tutti quanti boss Ragazzi l'ultimo pezzo del giocattolo L'ho trovato Grande L'ho completato Allora tu Ma che? Allora dai Proseguiamo dai ragazzi Ma ma che Mi ha fatto una valliata brutta proprio A me manca il petto A me non è fondamentale Tanto il 4 Uno solo può fare l'azione Quindi L'importante che abbiamo fatto Che delimmo Io sono andato avanti per esempio Senza la tessera Proto che ce l'avete voi E non c'abbiamo la tessera Non possiamo andare da nessuna parte Non mi dà più il braccio Mi ha perso un braccio sinistro Ma chi? Ti ha perso un braccio sinistro Solo io il braccio sinistro Che stronzata no dai Ehi di qua Ce l'avevo E se questo vieni Di qua si esce ragazzi Non c'è nessun laboratorio Vieni 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 Vedete Eccomi Ehi va di quella racchetta Sei curioso No scherzato Non si esce No no Scherzato Non si esce Non si esce Non si esce Good father E mo che ci faccio questo cosa Mi è dato un trofeo Ti ha dato il trofeo Ti ha dato? Sì d'argento Faffanculo Io ho preso il piccione in volo E non mi ha dato un cazzo Io vi sto aspettando Ma posso Posso picchiare col giocattolo? Se vuoi sì Ma non fa un cazzo Ti danno Dai hai aperto la porta Siamo sotto la cava Fagnone Vado Adesso il laboratorio Vedi che avevamo una ragione Che non c'è nessun cazzo Cazzo Se abbiamo la caverna e la dolina L'abbiamo Già vista Siamo nella cava Cava C'è dove c'è la casa nostra Non lo so Oh zio Cos'è quell'affare? Ma cosa? Un'elicottero Un'elicottero Ma dove? Dove? Eh minchia Oh il nascete Altre nemici Qui c'è nel nascete ragazzi Altre nemici Sento un grande Sento Chi l'ha preso il completo qua? Io no Vediamo che ti dà Se lo prendi Il macete non l'ho ancora Eccolo L'ho preso il macete L'ha colto Macete Eccolo qua Macete mixtape Si può fare con Si può fare avvelenato Con i dentini Infuocato E veloce No Abbiamo il nostro amico Tristed Dove è stato il trucco? Ah Virgivine Oh Aspettatemi un attimo Vai vai E' bene Nel frattempo facciamo Il ciccino La panza Facciamo O lo vogliamo fare il ciccione Con le frecce infugate Aspetta Non c'ho Le frecce infugate Io Ho fatto il macete Dentato e Piumato Vediamo Preso Non c'ho Le frecce infugate Ancora Aspetta Ce ne ho io Tranquilla Quanto ne bastano 4 Si Arrivo È morto No Ok Ora si Effettivamente Una volta che ti Bisogna Che ti sovi Darmi il buono Capisci quanto effettivamente Facciamo cacare Questi boss Ma vogli da Allora Non c'è nient'altro L'acqua Acqua E poi Altri nemici Un altro grande Ok Ok guardalo il grande è morto vediamo se gli arriva uuu vicina no non l'ho preso no ragazzi dai che ci sarà di bello qui non ci credo guarda 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 no non parlo prima è partito allora fatemi creare un po' di bombe va al volo mi ricordo più come si fa la bomba qua allora nastro microchip la bottiglia e i soldi comunque il contapassi sta continuando a contare i passi che cazzo altro c'era beh mi ha fatto dimenticare pure a me ah l'orologio va beh l'orologio ecco qua un po' di fresh un po' di fresh in focate oook c'è l'ultimo io non vedo in acqua una momenta io no non c'è nulla in acqua no non c'è nulla oh invece si che c'è come non c'è chi c'ige c'è una parte dove si può entrare perfetto buono che c'è in acqua quindi è una parte in cui si può entrare tipo una grotta ok arriviamo io non vedo più un cazzo non vedo avevo lo smoking solo praticamente si sempre stavo con lo smoking e perché in alcuni momenti sono nero e in alcuni momenti non sono più nero no 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 vado con la con con la connella ah no, c'è scritto che è un accappatoio comunque c'è scritto ok lì c'è qualcosa disegno di sborric io li ho appesi tutti quanti in cameretta ve l'ho appeso questo rumore dovrebbe essere un respiratore qua vicino che cosa cazzo è? è un nuovo mostro non lo senti? ah si siamo sulla direzione giusta c'è uno di bastoncini da sotto da vado ma fermatemi che salvo e ristarto il video casomai non me lo prende abbiamo superato un'ora abbiamo superato un'ora non